Questo è l'anno della confight per me, non la voglio proprio prendere a bene, benissimo. Vi ricordate tutto quel B.T. gioco che ho fatto in tutti questi anni con FedEx, ragazzi? Però è un gioco, cioè, alla fine non ci vediamo mai, non la metto in mani. Ma alla fine comunque ci si becca, quelle persone ci sono beccate, abbiamo fatto la pace, perché alla fine funziona così, no? Allora, non c'è una cosa, non c'è mai, non c'è mai assolutamente niente, non so, non so che posso chidarmi di più, spero che va bene con tutti. Un brindisi alla felicità! Adesso, vorremmo cantarvi un mio tormentone. Dieci in comunicazione, non uso mai l'inglese, ora faccio un'eccezione! Buona sera da tutti, ragazzi! Buona sera da tutti, ragazzi! Grazie! Grazie!